Qual è la prima impressione a vedere questo documentario? La prima impressione credo ci sia da riflettere, in effetti vengono poste anche dai cittadini delle cose vere, dei problemi che devono affrontare ogni giorno. Il secondo aspetto mi pare è quello di una lega molto più, meno truculenta, ascoltando i dirigenti, ecco si vede questi che ragionano, che parlano pacatamente, che ragionano in termini che bisogna raggiungere gli obiettivi ma senza rompere, senza spiegare, quindi mi sembra una lega diversa almeno rispetto a quello che abbiamo conosciuto. E secondo te comunque il PD soprattutto nei prossimi mesi dovrà tenere conto, dovrà comunque porsi il problema lega di questa espansione della lega in Emilia Romagna? Assolutamente sì, credo il PD debba, mi pare che anche in questi giorni le riflessioni che sono in giro vadano in questa direzione, deve non avere paura, non dare l'idea di essere arroccato e di avere ragione perché ha governato e ha governato bene questa regione per molti anni, deve ascoltare di più e credo è mettersi maggiormente in gioco, mi sembra questo l'aspetto più importante per continuare ad essere una forza di maggioranza, una forza di riferimento per cittadini che abbracciano i diversi centri sociali. Ecco in un ampio spazio dedicato a questo documentario si tratta di un tema più che di un luogo che è quello di Sassuolo e la lega l'ha fatto suo come cavalla di battaglia per alcune battaglie anche appunto in campagna elettorale eccetera. La prima domanda è se ti riconosci in quello che hai visto della Sassuolo che noi abbiamo descritto con questo video. Buona parte mi riconosco, c'è una piccola questione, nessuno anche degli intervistati che sanno bene tra l'altro sono cittadini dipendenti comunali che tutto quello che hanno fatto vedere è che è stato chiuso è stato chiuso dalla mia amministrazione a partire da San Pietro un anno dopo l'insediamento a finire al palazzo di Via Mezzavia, ai Gerani che è stata fatta l'ordinanza ed si è conclusa dopo le elezioni a Viadda dove si è detto che si è chiuso il palazzo in realtà erano rimasti alcuni appartamenti perché gli altri erano stati chiusi per i problemi di igiene, di ordine pubblico però l'ordine pubblico il sindaco non può in nessun modo utilizzare questa leva le leggi non glielo permettono quindi gli aspetti erano. Ecco ho visto una lega, ho visto un vice sindaco molto più pacato rispetto a quando era all'opposizione, all'opposizione era sempre molto aggressivo credo che anche lui si stia rendendo conto che governare è poi più complicato, fare delle scelte operare delle operazioni complicate come la chiusura, il superamento dei palazzi e i ghetti come abbiamo fatto noi, questo credo non, Sassuolo ha, come dire, sono valse più le parole diciamo del centro-destra sul tema della sicurezza di quanto il centro-sinistra avesse fatto in termini concreti mi pare che questo sia, anche se va detto che nessuno lo ricorda mai, la lega perde dalle provinciali alle comunali nello stesso giorno il 5-7%, quindi vuol dire che anche qui io sono tra quelli che dice non si possono ricorrere sullo stesso piano, io credo che invece sia possibile sfidare la lega anche sullo stesso piano, sui loro temi e sui loro argomenti e credo che Sassuolo pur avendo perso dimostri questo, il PDL nello stesso giorno tra le europee e le comunali diciamo europee e provinciali viaggiano più o meno con gli stessi dati, perde 2000 voti poi il balottaggio in effetti dà quel risultato che conosciamo tutti quindi io penso che in parte Sassuolo sia questa, Braida si dice, ecco l'altro aspetto ai problemi, Braida è rimasta come l'abbiamo lasciata noi, tranne la chiusura di quei 5-6 ed è quello che si registra ogni giorno e sono le lamentele mi pare un po' dei cittadini a dimostrazione che nessuno ha la bacchetta magica e che il tema integrazione e sicurezza è un lavoro lungo, difficile, che richiede un impegno giornaliero e che non ha soluzioni mirabolanti ma che va costruito giorno per giorno lavorando e dialogando e costruendo anche con questi nuovi cittadini che purtroppo venendo da culture totalmente diverse dalle nostre, lontane anni luce creano immediatamente la loro presenza che è comunque una questione, un problema di allarme immediatamente. Dopodiché bisogna costruire, far capire e bisogna fare sì che questi siano disponibili a dialogare con i cittadini, con i residenti, costruire e cercando di far capire che ci sono delle regole da rispettare. Credo noi abbiamo cercato di fare questo, credo riuscendoci perché mi pare che oggi anche nelle grandi città io sto guardando, mi pare che si utilizzino un po' gli strumenti e le modalità che Cessuolo ha sperimentato. In campagna elettorale si usano spesso anche molti slogan, la Lega ha cavalcato quello della sicurezza per Cessuolo, perché il PD non è riuscito a fare lo stesso a Cessuolo? No, io credo che noi, lo dimostrano i dati, i numeri elettorali, siamo riusciti ad incalzare la Lega e siamo riusciti a togliergli della benzina dal motore. Non abbiamo saputo utilizzarla da un punto di vista elettorale, credo che questo sia stato il problema. Il PD è andato dietro a Patuzzi non sempre convintamente per dirla e il resto del centro-sinistra, in particolare chi sta alla sinistra del PD, credo queste azioni non le ha mai capite fino in fondo, mi pare questo. E quindi quando si è trattato del momento di scegliere e di dover votare nel balottaggio tra due candidati, un pezzo di questo elettorato è rimasto a casa, questo è, credo, il dato. Mentre il centro-destra è riuscito a mantenere maggiormente saldo l'elettorato che ha il primo turno. Io ho guadagnato voti dal resto nel balottaggio da persone, cittadini, elettori che avevano votato altri candidati, ma diciamo c'è stata una fetta di centro-sinistra che è stata a casa. Poi le ragioni sono da questo punto di vista le divisioni del PD, la uscita del segretario fino a qualche mese prima che fa una lista, poi si schiera col centro-destra, credo che sono tutti elementi evidentemente che hanno influito pesantemente sul risultato finale. Noi non abbiamo incassato quanto era il nostro diritto e comunque sul tema della sicurezza, credo, resta più credibile il centro-destra, la Lega, nei cittadini di quanto non lo sia il PD. Il PD a sessuolo, credo, ha fatto azioni concrete, serie, forti dal punto di vista, diciamo, anche della sicurezza e dell'impatto sulla città, chiudendo i ghetti, non è riuscito a portare a casa il risultato del lavoro fatto.